Nuove scintille in maggioranza a Palazzo d'Accursio dopo il People Mover e la fusione tra Fer e ATC a far litigare il centro-sinistra. Divisioni tra PD, ESEL e Mero la Bacchetta, così non va bene. Daria Bonfietti lancia l'appello al presidente Monti perché ritiri il ricorso presentato dal governo Berlusconi contro la sentenza del Tribunale di Palermo. I giudici avevano concesso alle vittime di Ustica un maxi risarcimento di 100 milioni di euro. Si infiamma lo scontro sul ventilato ingresso di alcune associazioni gay nella consulta per la famiglia. Le ACLI di Bologna annunciano battaglia e insieme ad altre associazioni lanciano una diffida al comune sui nuovi inserimenti. Provoca due incidenti nel giro di un quarto d'ora, poi fugge abbandonando la macchina. Il pirata della strada, un 39enne marocchino, alla fine è stato bloccato dai carabinieri. Nel primo scontro aveva causato il ferimento di un'intera famiglia. Parte la campagna regionale sulle donazioni di sangue. Nonostante il lieve calo del 2011, l'Emilia-Romagna è al secondo posto in Italia, ma è necessario fare sempre di più. Testimonial sarà il cantante Samuele Bersani. Buonasera dalla redazione di ETG. Lo avete sentito dai titoli, quella di oggi è stata un'altra giornata di tensione all'interno della maggioranza del centro-sinistra nel comune a Bologna. La spaccatura è tra PD e Sinistra Ecologia e Libertà, mentre i vendoliani assicurano che non c'è alcun problema con i democratici. Intanto però per il sindaco Virginio Merola così non va bene. Massimo Ricci. Spaccatura sì, spaccatura no. Per capire quale sia lo stato di coesione nella maggioranza in comune a Bologna, non bastano le parole pronunciate davanti alle telecamere o alla presenza dei tacquini dei giornalisti, perché le fratture sono più che nelle dichiarazioni, nei fatti. È il caso della seduta della Commissione Affari Istituzionali, quando la stensione dei vendoliani di SEL sulla vicenda della fusione tra ATC e FR ha costretto al pareggio la maggioranza. Lo dicevo che il problema è SEL, ha sbottato Benedetto Zacchiroli, è il partito degli astenuti. Ma la capogruppo dei vendoliani Chetila Torre sui temi sensibili come People Mover getta acqua sul fuoco. Non c'è nessun problema aperto in maggioranza, non c'è nessuna maggioranza in tilt, piuttosto che nessuna spaccatura che non si può rinsaldare. Non è così, ci sono alcuni approfondimenti, alcune posizioni articolate che il nostro gruppo esprime su alcuni temi cruciali come quello della mobilità, come quello delle infrastrutture. Il People Mover è uno in particolar modo. Noi non abbiamo mai espresso nessuna contrarietà pregiudiziale a nessuna infrastruttura, nemmeno a quella del People Mover. Abbiamo semplicemente chiesto che ci sia un approfondimento sulla partecipazione della nostra azienda trasportistica ATC, che in questo momento forse ci espone un rischio molto elevato. E mentre il gruppo consigliare del PD si è riunito assieme al sindaco e al segretario provinciale Raffaele Donini per rinsaldare le fila proprio sulle questioni più spinose, è lo stesso Merola a lanciare parole pesanti all'indirizzo di SEL. In consiglio comunale c'è un gruppo di maggioranza che si fa carico più di altri, ha dichiarato, e questo non va bene, ha ripetuto, questo non va bene. Intanto il comune di Bologna ha dei problemi seri con le atli della città, il cui presidente Francesco Murru ha presentato proprio oggi una diffida al comune di Bologna sull'ingresso di due associazioni omosessuali nella consulta comunale per la famiglia. Murru ne ha parlato proprio oggi nel corso di Buongiorno, Emilia Romagna, sentiamo le sue parole. Sì, stamattina sarà notificato al presidente del consiglio comunale, al presidente della commissione competente, una diffida a proseguire oltre e quindi per l'elezione del presidente della consulta, rispetto alla interpretazione che è stata data da questi sul tema appunto dell'ingresso di nuove associazioni sulla consulta, e questa diffida è stata firmata da 10 delle 18 associazioni appartenenti alla consulta. Quindi è la consulta stessa in un qualche modo che chiede al comune di rinnovare la sua autonomia e di dargli la possibilità di decidere chi fa parte o non fa parte della consulta stessa, così come lo statuto della consulta prevede. Il presidente dell'Associazione Familiari Vittime di Ustica, Daria Bonfietti, sarà presto a Bruxelles per chiedere ai parlamentari di alcuni paesi europei di adoperarsi presso i loro governi affinché rispondano positivamente alle richieste della Procura di Roma che ha riaperto le indagini sulla strage del DC-9. Al presidente del Consiglio Monti, invece, la Bonfietti chiede che il nuovo governo ritiri il ricorso contro la sentenza di Palermo. Gabriele Sciarra. La presidente dell'Associazione Familiari Vittime di Ustica, Daria Bonfietti, ha chiesto al governo Monti di ritirare il ricorso contro la sentenza del Tribunale di Palermo che ha condannato i Ministeri dei Trasporti e della Difesa a risarcire con 100 milioni di euro i parenti delle vittime di Ustica. Il ricorso, ricordiamo, fu proposto dal passato governo Berlusconi e notificato dall'Avvocatura dello Stato lo scorso 22 ottobre. In assenza di questo ritiro, i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora molto tempo prima di essere risarciti. Ma non è solo questo aspetto che interessa la Bonfietti, che è in partenza per Bruxelles, dove incontrerà alcuni parlamentari tedeschi, francesi, inglesi e belgi. A loro chiederà di fare pressioni presso i rispettivi paesi affinché diano una risposta alle erogatorie internazionali richieste dalla Procura di Roma che di recente ha riavviato l'inchiesta sulla caduta del 19 nel 1980. Che si sia trattato di un abbattimento ormai assodato, prosegue la Bonfietti, ma ora si deve arrivare, conclude, a quello che c'è di indicibile su ciò che doveva accadere quella sera di 31 anni fa. Ha provocato due incidenti nel giro di un quarto d'ora. Passiamo così alla cronaca. È successo a Crespellano, poi è fuggito abbandonando la macchina e facendosi venire a prendere da un amico. Il pirata della strada rintracciato e denunciato dai carabinieri è un marocchino di 39 anni, residente nel Modenese. Alla guida della sua Renault Laguna e un po' al Ticcio sabato sera ha avuto un primo incidente in via Cassola causando il riferimento di un'intera famiglia, marito, moglie e due bambini. Si è allontanato senza prestare soccorso ai quattro feriti e poco dopo in via Garibaldi si è scontrato con altri due veicoli, questa volta senza provocare feriti. Il marocchino a quel punto ha deciso di abbandonare la Renault, ormai seriamente danneggiata, e ha telefonato a un amico per farsi venire a prendere. I carabinieri, grazie alle indicazioni dei testimoni di due incidenti e agli accertamenti sulla sua auto, hanno rapidamente identificato il 39enne che è stato denunciato per omissione di soccorso. Nei guai è finito anche l'amico accusato di favoreggiamento. Pensare oggi alle infrastrutture bolognesi è un'utopia, le priorità del Paese sono ben altre. A dirlo è il deputato bolognese Giancarlo Mazzuca, da noi intervistato sul lavoro del Parlamento in questi giorni e anche sulla crisi internazionale. Allora sentiamo le parole di Mazzuca al microfono di Massimo Ricci. Ci ritroviamo assieme al PD dopo esserci combattuti per tre anni. Il clima è ovviamente strano ma tutto questo era necessario. Parola di Giancarlo Mazzuca, parlamentare bolognese del PDL, che racconta ai nostri microfoni quale sia il clima in questi giorni in Parlamento. Scettico sulla nomina di sottosegretari tecnici e non politici, Mazzuca giudica così la posizione della Lega. Il fatto che la Lega si sia posta inopinatamente all'opposizione, l'unico partito che si è posto all'opposizione lascia perplessi. Lo stesso De Pietro alla fine ha aderito perché occorre veramente un consenso nazionale e quindi la posizione della Lega può lasciare qualche dubbio. Io credo che però l'alleanza col PDL sia un'alleanza vecchia di anni, c'è un rapporto sud-alizio molto consolidato e quindi credo che prima delle elezioni, delle prossime elezioni, ci sia la possibilità di riavvicinarsi. Negli ultimi tempi alcuni parlamentari bolognesi hanno chiesto di fare squadra per ottenere dal governo i provvedimenti necessari a costruire le infrastrutture nel capoluogo emiliano. Secondo il deputato PDL però ora le priorità del Paese sono altre. Mi sembra utopistico pensare in questo momento alle infrastrutture locali. Occorre prima di tutto mettere in salvo il Paese e poi pensiamo alle infrastrutture locali che tra l'altro sono da anni un po' in naftaline, quindi possono aspettare anche qualche mese in più. A proposito della crisi internazionale che vede la moneta unica in grave difficoltà, Mazzuca si augura che non si arrivi ad un euro di serie A ed uno di serie B, ma è vero che sono stati fatti grossi errori. Gli euroscetici, coloro che 12 anni fa, come per esempio l'ex ministro Martino, hanno messo in dubbio la validità dell'euro in quel modo, senza una banca centrale veramente che fosse centrale, la BCE, ecco avevano perfettamente ragione. Quella costruzione che era stata addirittura osannata da molti giornali, da molte opinioni lire, dimostra a distanza di 12 anni le sue crepe. Occorre una BCE che sia veramente banca centrale, occorre una politica fiscale comune europea. Ancora una notizia legata alla cronaca. Avevano fatto razzia di addobbi natalizi, quattro romeni, due uomini e due donne, arrestati dalla polizia dopo un furto al grande magazzino Lerua Merlèndi via Carnacini. Uno degli addetti alla sicurezza del negozio li ha inseguiti in macchina, avvertendo nel frattempo la polizia che poco dopo, in via larga, ha bloccato l'auto con i ladri, recuperando le decorazioni natalizie appena rubate del valore di oltre 250 euro. Nell'appartamento dove i quattro abitano, in zona pilastro, gli agenti hanno trovato e sequestrato altra refurtiva, computer, accessori informatici e attrezzi di ferramenta. Al via la campagna di donazione del sangue promossa dalla Regione, insieme ad Avis e a Fidas. Si chiamerà Al cuore si comanda e testimonial sarà il cantante Samuele Bersani. Però sentiamo come sono andate le donazioni proprio nella nostra regione, quest'anno la nostra regione che è seconda solamente alla Valle d'Aosta. Simona Iannessa. Al cuore si comanda. È così che, parafrasando il titolo di un vecchio film di Morricone, di una canzone del testimonial Samuele Bersani, parte la campagna per la donazione del sangue promossa dalla Regione, da Avis e Fidas. L'obiettivo è sin troppo chiaro, promuovere la cultura della solidarietà ed allargare il cerchio dei possibili donatori, dal momento che il sangue è una risorsa fondamentale e non è riproducibile artificialmente, ma può solo essere donato. La campagna, che prevede volantini, locandine e spot, metterà in campo anche un concorso per gli studenti delle superiori che dovranno cimentarsi con il videogiornalismo e con la vita di redazione, un modo per stimolare la loro creatività e per coinvolgerli nell'esperienza della donazione del sangue. Fortunatamente la nostra regione è una regione solidale con una lunga e solida tradizione di volontariato, di donazione di sangue e di plasma. Una piccola flessione l'abbiamo registrata all'inizio dell'anno e pensiamo sia legata all'andamento influenzale e poi l'abbiamo avuto quest'estate, che è stata un'estate lunghissima e molto calda. Bisogna mantenere una fortissima vigilanza, una fortissima intensità nella sensibilizzazione dei cittadini a questo gesto di solidarietà e di civiltà. Riduciamo anche nei nove mesi del 2011, contro i nove mesi del 2010, anche di poco la raccolta però, dello 0,6%. Si è spento ieri all'età di 64 anni, Alan Taylor, grande musicista dell'era beat, che aveva un forte legame con Vasco Rossi, con cui aveva prodotto i primi tre dischi. Con il rocker di Zocca scrisse diversi brani, tra cui la famosissima Alba Chiara. Taylor è morto all'hospice dell'ospedale Bellaria di Bologna, città in cui risiedeva da molti anni. I funerali si svolgeranno domani alle 14 al cimitero di Casalecchio di Reno. Adesso ci fermiamo, arriva la pubblicità, poi a rientro un'ampia pagina dedicata allo spettacolo e alla cultura. Restate con noi. Di nuovo in studio con ETG, prima di proseguire andiamo a vedere gli argomenti principali di oggi. Nuove scintille, in maggioranza Palazzo d'Accursio. Dopo il People Mover è la fusione tra FER e ATC, a far litigare il centro-sinistra. Divisioni tra PD e SEL e Mero la Bacchetta, così non va bene. Dario Bonfietti lancia l'appello al presidente Monti perché ritiri il ricorso presentato dal governo Berlusconi contro la sentenza del Tribunale di Palermo. I giudici avevano concesso le vittime di Ustica un maxi risarcimento di 100 milioni di euro. Si infiamma lo scontro sul ventilato ingresso di alcune associazioni gay nella consulta per la famiglia. Le ACLI di Bologna annunciano battaglia e insieme ad altre associazioni lanciano una diffida al comune sui nuovi inserimenti. Provoca due incidenti nel giro di un quarto d'ora, poi fugge abbandonando la macchina. Il pirata della strada, un 39enne marocchino, alla fine è stato bloccato dai carabinieri. Nel primo scontro aveva causato il ferimento di un'intera famiglia. Parte la campagna regionale sulle donazioni di sangue, nonostante il lieve callo del 2011, l'Emilia Romagna è al secondo posto in Italia, ma è necessario fare sempre di più. Testimonial sarà il cantante Samuele Bersani. E come detto siamo allo spettacolo, perché dopo il grandissimo successo di paurosissime visite, Malandrino e Veronica tornano quest'anno, questa volta all'oratorio San Filippo Neri di Bologna, con Visitors, il meglio del tour estivo dei due artisti nei luoghi più insoliti della città. Noi abbiamo parlato proprio con Malandrino e Veronica, sentiamo allora uno stralcio dell'intervista che trasmetteremo in forma integrale nei prossimi giorni. Sentiamo. Visitors è il compendio di quella che è stata un'esperienza meravigliosa quest'estate. Quest'estate abbiamo girato nei posti più strani, dal deposito locomotive alla biblioteca dell'Archiginnasio, siamo andati in giro in posti strani con i nostri autobus e Villaldini, eccetera, eccetera. Ogni luogo si legava una performance, non solo fatta da noi, ma anche dalle nostre ballerine, insomma tutto il lavoro di gruppo che facciamo ormai da tempo. È lo stesso cast di Paolosissime Visite? Praticamente sì. Ebbene, allora abbiamo detto perché non approfittiamo, visto che l'abbiamo fatta anche in questo posto meraviglioso che è l'Oratorio di San Filippo in Via Manzoni. Usiamo questo luogo che è stato anche lui protagonista dell'estate per fare praticamente una sorta di meglio, il meglio di Visitors, raccontando attraverso poi delle preiezioni, dei video, quello che abbiamo, tutto il nostro percorso e riproponendo appunto le performance più belle. Allora, per informazioni, piazza Maggiore, Bologna Welcome, www.bolognawelcome.it per informazioni, giusto per ricordarsi bene. Ma anche per la pre vendita, se uno vuole prendere i biglietti dipende solo lì. O il loco. Visitors, dal 7 al 10 dicembre, Oratorio San Filippo Neri, Via Manzoni, Bologna, gli orari sono le 16 e le 21, o solo le 16, dipende dalle giornate, quindi bisogna informarsi bene. Sì, c'è l'informatore qua, è molto semplice, il mercoledì 7 facciamo alle 21, è la prima, è il giorno dopo che è festivo, cioè l'8, facciamo la pomeridiana, alle 4, alle 16 e alle 21. Alle 21. Il venerdì 9 facciamo la pomeridiana, perché alla sera siamo impegnati, abbiamo un problema nostro. Il sabato pomeridiana e serale, 16 e 21. Domenica chiuso per riposo. Bene, continuiamo con lo spettacolo, perché parliamo degli abbonamenti natalizi dell'Arena del Sole, con noi in studio Bruno Damini, direttore della comunicazione del Teatro Arena del Sole di Bologna. Buonasera. Buonasera. Allora, siamo sotto Natale, a Natale regala teatro. È una formula vincente, l'abbiamo lanciata tanti anni fa, cresce di anno in anno, che significa che i cittadini bolognesi, ma non solo, hanno trovato in questa idea una valida alternativa alla formula regalo, che si... Insomma, i regali di Natale trovano giustificazione maggiore se chi li riceve ti ricorda in volte successive, perché il teatro lo si fruisce un po' per volta, insomma. Ecco, entriamo nel dettaglio. si tratta sostanzialmente di Carnet Liberi, giusto? Sì, c'è la possibilità di scegliere fra otto spettacoli, sono otto spettacoli importanti, di forte richiamo, che hanno come protagonisti artisti molto famosi come Vito, Ascanio Celestini, Massimo D'Apporto, Isabella Ferrari, Ennio Fantastichini, Milva, Sosta Palmizzi per il teatro di ricerca e il Vancouver City Dance Theater per la grande danza internazionale. si sceglie fra questi otto spettacoli e poi si decide se a teatro ci si vuole andare da soli acquistando un carnet di quattro biglietti oppure se ci si va più volentieri in coppia acquistando un carnet sempre di quattro biglietti ma per due spettacoli. Si scelgono spettacoli, titoli, date di preferenza e poi ci si ritrova in quella grande agora che è il teatro, in particolare l'Arena del Sole. Ecco, ricordiamo proprio il riferimento per i nostri telespettatori e anche per il pubblico dell'Arena del Sole. Sì, per ogni informazione www.arenadelsole.it Quindi adesso si può dare il via a questi abbonamenti natalizi dell'Arena del Sole che hanno il nome A Natale si regala teatro. Insomma, nulla di più appropriato. Grazie a Bruno D'Amini. Grazie, grazie a voi. Grazie per essere state con noi. Allora, fino al prossimo 15 gennaio è aperta presso il Museo della Musica di Strada Maggiore la mostra Alias in esposizione le opere dell'artista e scrittore Giorgio Faletti. Ce ne parla Gabriele Sciarra. Uomo di spettacolo, scrittore, ultimamente pittore, il poliedrico Giorgio Faletti espone fino al 15 gennaio i suoi quadri al Museo della Musica nella mostra dal titolo Alias. Alias perché, come spiega lui stesso, si tratta di un altro aspetto della sua personalità e di un altro modo di esprimere passioni. nei suoi quadri frammenti dispartiti, piccoli giochi, oggetti d'uso quotidiano. Le cose che faccio sono molto legate da un punto di vista estetico e anche manifatturiero, se posso usare questo termine, sono molto legate al gioco, all'ironia, all'umorismo e a quella parte infantile che ho fatto il possibile per non perdere di me. Sono legate anche al fatto che non avendo nessun tipo di tecnica sono stato costretto ad inventarmene una e questa è una scoperta che mi accompagna giorno dopo giorno mentre faccio i miei lavori, mentre mi rilasso da altre fatiche e mi trovo immerso in questo rapporto fisico con l'opera che altrove non ho. Dipingendoci si sporca le mani, si è coinvolti fisicamente nella costruzione dell'opera e che altrove, ovviamente, pestando sui tassi di un computer o i tassi di un pianoforte e si è coinvolto nello stesso modo ma non c'è il fatto materico, non c'è il fatto della colla, della vernice, di prendere, strappare, incollare, è completamente diverso. Siamo in chiusura, prima di salutarci diamo uno sguardo ai titoli di oggi, nuove scintille in maggioranza a Palazzo d'Accursio dopo il People Mover e la fusione tra Fer e ATC a far litigare il centro-sinistra. Divisioni tra PD e SEL e Mero la Bacchetta, così non va bene. Daria Bonfietti lancia l'appello al presidente Monti perché ritiri il ricorso presentato dal governo Berlusconi contro la sentenza del Tribunale di Palermo. I giudici avevano concesso alle vittime di Ustica un maxi risarcimento di 100 milioni di euro. Si infiamma lo scontro sul ventilato ingresso di alcune associazioni gay nella consulta per la famiglia. le ACLI di Bologna annunciano battaglia e insieme ad altre associazioni lanciano una diffida al comune sui nuovi inserimenti. Provoca due incidenti nel giro di un quarto d'ora poi fugge abbandonando la macchina. Il pirata della strada a un 39enne marocchino alla fine è stato bloccato dai carabinieri. Nel primo scontro aveva causato il ferimento di un'intera famiglia. Parte la campagna regionale sulle donazioni di sangue nonostante il lieve calo del 2011 l'Emilia Romagna al secondo posto in Italia ma è necessario fare sempre di più. Testimonial sarà il cantante Samuele Bersani. È tutto, grazie per essere stati con noi e una buona serata. Grazie a tutti.